Trasporto pubblico locale, migranti positivi, l'attualità entra nella conferenza stampa di presentazione della sperimentazione veronese sul vaccino anti-covid. Dopo le polemiche sui treni annullati, il presidente della regione Veneto, Zaia, conferma l'ordinanza regionale che permette la capienza in base all'omologazione, ricordando l'accordo sulle prime riaperture nelle fabbriche siglato lo scorso 13 aprile tra governo e parti sociali. Nell'accordo c'è scritto che sotto il metro di distanza due o più lavoratori possono lavorare fianco a fianco, anche per otto ore, portando la mascherina. Ciò vuol dire per la proprietà transitiva, a casa mia, che gli stessi lavoratori nell'autobus possono stare fianco a fianco con la mascherina e non ci stanno otto ore. Se riduciamo la capienza dei treni regionali, continua Zaia, non ci sono alternative al trasporto pubblico locale e sarà ancora peggio con l'apertura delle scuole. Perché vi ricordo che anche avendo i soldi qui sopra il tavolo in questo momento, se io volessi comprare il doppio dei treni perché me ne servono il doppio, o il doppio degli autobus, non ci sono sul mercato. Poi la questione migranti positivi con le polemiche sulla Croce Rossa a Jesolo e l'ex caserma Serena a Treviso. E' la prova provata che gli immigrati ospitati in questa maniera, soprattutto molto spesso non aventi titolo, perché vi ricordo che 9 su 10 non sono scappati da morte e dalla fame, devono tornarsene a casa loro. Se noi non avessimo avuto questi due centri di accoglienza, non avremmo avuto due grandi focolai.